Il consiglio principale, il numero uno è quello di credere sempre in se stessi, perseveranza, mai fermarsi, non ascoltare coloro che il limite per interessi personali, cioè terzi persone, interessi personali cercano di sminuire la tua bravura o anche cercano di farti forviare da quello che è la tua voglia, la tua grande passione. Vai avanti, mandate avanti per la vostra strada finché credete in quello che fate. Poi chiaramente questo è un 50%, l'altro 50% è una grande fortuna e ci vuole anche fortuna, trovarsi nel momento giusto e nel posto giusto e quelle persone sono in modo giusto nella stessa situazione, è difficile emergere solo per il punto proprio perché sei bravo, è molto difficile, ci vuole anche fortuna, però l'altro 50% ci vuole preparazione, perseveranza, voglia di fare dei sacrifici, non è più come una volta che i cantanti degli anni 50-60 facevano le 5-6 di mattina, oggi bisogna curarsi molto anche nella voce, quindi se si vuole veramente fare questo mestiere e diventare dopo del tempo manager di se stessi, come ho detto poco tempo fa, è l'unico, l'unico e gli unici consigli di risultati.